Il premio nazionale Franco Enriquez, città di Sirolo 2022, diventa maggiorenne e per la diciottesima edizione si regala e regala al suo affezionato pubblico e agli amanti del teatro un'edizione particolarmente bella con al centro del cartellone degli eventi un classico dello spettacolo dal vivo, la locandiera, una delle più brillanti commedie goldoniane in scena in prima nazionale il 7 e 8 agosto al Teatro Cortesi di Sirolo in memoria del regista Franco Enriquez. La pièce debutterà nell'ambito della rassegna sipario aperto ospitata all'interno del premio su progetto di Paolo Larici, presidente e direttore artistico del centro studi drammaturgici internazionali Franco Enriquez. Intanto voler ritornare a teatro e quindi questo chiaramente ci rende felici perché insomma siamo stati due anni abbastanza difficili, sono stati due anni e ancora non siamo completamente fuori da questa situazione però insomma è molto meglio rispetto a quello che era nel 2020. Comunque quest'anno l'omaggio che facciamo è sempre come ogni anno un omaggio dedicato ad Enriquez alla sua regia ma non soltanto a lui, quest'anno è la volta della locandiera, uno spettacolo straordinario che fece migliaia di repliche prodotto dal Teatro Stabile di Torino nel 1965, allora direttore era Nuccio Messina e direttore artistico appunto De Bosio, poi seguì Enriquez perché fu anche direttore artistico del Teatro Stabile di Torino, Franco. Questo spettacolo praticamente arrivò fino a Kiev, praticamente Mosca, tutta l'Europa dell'Est e noi lo vogliamo ricordare proprio in questo momento perché il segnale di questa donna emancipata che voleva in qualche maniera essere al di sopra diciamo dell'uomo, gestire voglio dire in qualche maniera la sua attività, gestire se stessa, dignità appunto alla donna e ai suoi valori e quindi tutto questo ci riconduce a una locandiera che quest'anno verrà messa in scena dalla compagnia Dramma Teatro di Popoli Pescara con la regia di Claudio Discanno con Susanna Costaglione nel ruolo di Mirandolina, chiaramente il paragone non possiamo farlo, qui siamo di fronte a dei mostri sacri del teatro italiano e europeo, Valeria Morricone è stata una delle più grandi Mirandoline della storia insomma, però vogliamo ricordarla, vogliamo ricordarla e dare un cenno diverso perché chiaramente il messaggio che passerà sarà un messaggio sicuramente moderno, voglio dire, rispetto alla monaregia del 1965. Locandiera che potrà essere ancora meglio apprezzata grazie ad una mostra fotografica allestita nei locali del teatro. Sì, è un allestimento che noi abbiamo fatto in collaborazione con Pietro Corvi, questo autore del volume che uscirà e sarà praticamente presentato in prima nazionale il 30 di agosto qui a Sirolo, che è proprio la locandiera secondo Franco Enriquez, quindi nella messa in scena di Franco Enriquez. Perché questo libro? Tanto un libro importante, perché è un libro copioso, insomma di 200 e passa pagina, quindi che analizza proprio questa regia e questo regista e questa locandiera, perché questa locandiera è un passaggio cruciale della regia italiana e quindi voglio dire, soprattutto della regia sull'opera di Goldoni. Ecco, allora questo ci fa capire ancora di più chi era Franco Enriquez, che cosa ha rappresentato per la regia italiana e noi chiaramente il nostro lavoro è questo, cioè fare in modo che come centro studi Franco Enriquez, che il nome appunto di Franco venga sempre esaltato, comunque venga dopo 42 anni dalla sua morte, comunque ricordato. Il ritmo di questo spettacolo è sconvolgente, noi lo proporremo perché qui a teatro faremo delle piccole proiezioni, degli spezzoni, chiaramente non sarà mai integro perché non possiamo, ma metteremo diciamo a nudo quelle che sono le peculiarità di questo spettacolo e quindi il pubblico potrà venire a questa mostra e assistere anche a queste proiezioni dove ci sarà anche Franco durante delle interviste eccetera, come noi ogni anno proponiamo per far capire chi era Franco Enriquez, qual era la sua filosofia, la sua teatralità. Ogni anno abbiamo un motto, quindi a teatro con Enriquez è stato negli anni passati, quest'anno è con Enriquez per una nuova rinascita, quindi secondo me questo sarà il motore di quest'anno, di questo premio. Con un programma ricco perché appunto si parte dalla locandiera che è l'omaggio e poi si arriva fino al 30 agosto che è la giornata del premio, ma ci sono tante occasioni in realtà diverse di coinvolgimento anche della città. Il 9 agosto avremo questo incontro al Parco della Repubblica con la musica d'autore, con Massimo Priviero, con questo ultimo album che si chiama Essenziale, è un vincitore tre volte del premio Tenco, quindi voglio dire comunque un autore di rilievo e chiaramente è della musica d'autore il protagonista. Poi il 21 invece è un omaggio della compagnia, della bottega di teatro Marche con Paola Giorgi e della Principessa Diana e la Palpebra di Dio, cioè è un omaggio, questo testo di Cesare Catà, ed è un omaggio che la Giorgi fa praticamente a Lady Di come simbolo anche della femminilità, di questa indipendenza della donna, di questa sua prerogativa, insomma voglio dire importantissima, questa libertà che lei comunque in qualche modo ha cercato sempre fino all'ultimo. Il 28 agosto un omaggio attraverso il testo che vince il premio per la dramaturgia di quest'anno, che è Prima d'ogni altro amore, Callas Pasolini di Sergio Casesi. Il 29 di agosto invece un omaggio a Gaber e Sandro Luporini attraverso la compagnia TF Teatro, che è la produzione di questo spettacolo, far finta di essere sani, appunto di Gaber Luporini, con Andrea Mirò, Enrico Ballardini e musica da ripostiglio, un quattetto jazz straordinario. Questi, anche loro, vincono il premio Enriquez di quest'anno. Poi il 30 agosto, la serata finale, i premi, io credo che sia una festa nel nome di Enriquez e la vogliamo fare, voglio dire, fino in fondo. Allora quest'anno io voglio ricordare, perché non voglio dimenticare nessuno di questi personaggi. Allora, leggo qualcosa perché così non mi dimentico. Allora, innanzitutto il premio alla carriera a massimo d'apporto. Poi un premio alla memoria a Paolo Graziosi. Un omaggio a Paolo perché, oltre ad essere stato uno dei più grandi attori italiani, ho visto con un dispiacere che non è stato ricordato come si doveva, insomma. Questo purtroppo in Italia accade spesso. Torno a un altro premio alla carriera straordinario che facciamo quest'anno. Un premio alla carriera a Carmelo Bene, nel ventesimo anno della sua scomparsa. Un altro premio importantissimo viene dato nella sezione Poesia e Letteratura a Francesco Scarabicchi per questa opera postuma, La figlia che non piange. Volevo ricordare anche il premio per la drammaturgia a Sergio Casesi con il testo che dicevamo prima che poi verrà rappresentato qui il 28 di agosto. Volevo ricordare il premio come alla regia per il Tieste di Seneca a Giuseppe Argirò. Un bellissimo premio per la programmazione e quindi per la direzione artistica a Rino Bizzarro per Puglia Teatro. Un altro premio importante al CSS Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia per la direzione artistica e la programmazione. Poi a Filippo Nigro e Fabrizio Arcuri miglioratore e regia per lo spettacolo Le cose per cui vale la pena di vivere. Poi un premio importantissimo per la canzone d'autore e per l'impegno civile e per la comunicazione del teatro di narrazione a Daniele Biacchessi, Massimo Priviero e Marino Severini. Poi un premio particolare a Lorenzo Sant'Angelo che è questo giovane autore interessantissimo che vince come appunto migliore autore e interprete rivelazione ma soprattutto per un brano che è l'arancio. Vi consiglio di andarlo a sentire, ad ascoltare perché è veramente interessante. Il premio come migliore attore e attrice alla Lietti e come miglioratore a Matteo Belli, miglioratore e Mimo e non solo perché Matteo Belli è un teorizzatore del teatro. Insomma è davvero tutto pronto per quella che è un'offerta a, lo dicevamo, turisti, cittadini, amanti della cultura che aspettano questo appuntamento di Sirolo. Sì perché voglio dire il premio mai ha raggiunto i suoi 18 anni, la cosa più importante è che resistiamo. Non possiamo che dare l'appuntamento a questa stagione che sta per iniziare. Eh sì, io vi aspetto tutti il 7 e l'8 agosto e anche le altre date. Noi siamo il centro studi Franco Enriquez, l'uomo più coraggioso del teatro e della storia del teatro italiano. Grazie a tutti.